Musica Altre due mosse in uscita concretizzate per il Catanzaro Calcio continua, quindi l'operazione snellimento dell'organico con l'addio ufficiale dell'attaccante Mohamed Fofanà che rientra la Virtus Lanciano che ne detiene il cartellino e che lo girerà alla Grosseto ed il trasferimento in prestito del mediano Tommaso Morosini alla Savona fino a fine stagione. Due pedine che non hanno certo lasciato il segno durante questa stagione. Fofanà è arrivato a luglio con grandi ambizioni e acclamato dalla tifoseria assieme ai compagni di reparto Camara e Silva Reis. Le loro storie sono diventate abbastanza simili. Tutti e tre infatti hanno inciso poco o nulla nelle vicende del Catanzaro. L'ex pratese ha già rescisso da qualche settimana, mentre con il francese ex Modena la società di Cosentino ha avviato una trattativa serrata per trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, magari cercando per il calciatore altri lidi. Missione comunque affatto semplice questa. Ed intanto c'è un nome altisonante in partenza, Antonio Vacca alle ore contate con la maglia giallo-rossa, Reggio Emilia la probabile destinazione. Quasi sicuramente il centrocampista scenderà sabato in campo contro il suo ex Benevento, con la cui tifoseria si è lasciato malissimo, dopodiché saluterà la Calabria. Il direttore sportivo Ortoli intanto lavora sotto traccia per piazzare anche i difensori Ricci e Daffara e l'ex crotonese Pacciardi, dal quale per esperienze trascorsi tifo e società si aspettavano un contributo superiore. Anche uno tra Dario Barraco e Biagio Pagano pare stia preparando i bagagli. Il club di Cosentino continua a sfoltire la rosa con l'obiettivo di ridurre i costi. Non è ancora dato sapere se investirà per tentare l'assalto ai play-off. Il destino del Catanzaro a questo punto dipenderà dalle scelte societarie delle prossime ore. Sarà rivoluzione, smantellamento o rifondazione. Ha lasciato il Cosenza il centrocampista Pier Antonio Sassano, classe 92, che aveva regalato ai Lupi il successo nelle derby di Coppa Italia a Catanzaro. Sassano Palermitano arrivato a Cosenza per volere dell'ex tecnico rosso-blu Roberto Cappellacci torna alla Trapani, proprietario del suo cartellino. Il suo addio segue quelli di Moscero, Alessandro e Bertolucci. Ma il mercato rosso-blu non è finito e può riservare ancora qualche botto. È risaputo infatti che il club Silano cerca l'ex arcidiacono, attualmente in forza al Martina Franca. È tra l'altro andato a segno proprio domenica contro il Foggia. Sul fronte Regina si lavora per rinforzare l'organico a disposizione di Roberto Alberti. Pare piaccia all'attaccante croato Bruno Pektovic, di proprietà dell'Eccatania. E proprio l'Eccatania vorrebbe portare alle falde dell'Etna il fantasista maranto Roberto Insigne, eccezionale protagonista e trascinatora all'inizio di questo campionato, ma scioltosi come neve al sole da metà ottobre a questa parte. Foti non se ne priverà prima di aver individuato un valido sostituto, anche se Insigne pare già separato in casa. Anche Crescenzi, Rizzo, Maite e Dall'Oglio sono con le valigie in mano. Di Michele è fuori rosa ed ha chiesto la rescissione del contratto, ma prima di liberarsi dal club vuole una buona uscita. Situazioni intricate che Foti comunque sta affrontando di petto. Intanto lunedì alla Granillo contro la Paganese ci saranno probabilmente gli esordi dei nuovi, si fa per dire Amaranto, Belardi, Cirillo e Daronica, tornati ad offrire al gruppo di ragazzini quel contributo di esperienza fondamentale in questa infuocata categoria. Ma non basta ancora, serve qualche elemento qualitativo in grado di far svoltare definitivamente questa squadra e di condurla fino alla salvezza. Piace la punta delle Martina Franca Adriano Montalto, potente e freddo sotto porta. Alberti aspetta tranquillo i giusti rinforzi per provare la rimonta salvezza. Ed intanto la tifoseria Amaranto si augura che proprio il tecnico sia capace di replicare quel miracolo sportivo di cui è stato protagonista lo scorso anno nel girone di ritorno alla guida del Bari, condotto ad un passo dalla promozione in Serie A. Grazie a tutti.